ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale di stilograficamente il canale riservato al mondo delle stilografiche oggi vediamo insieme questa bellissima pelican suvraine m805 questa penna appartiene a dario f che ringrazio per avermela prestata tra l'altro dario f mi conosce pochissimo cioè si è iscritto al canale e mi ha mandato questa mail bellissima su cui mi ha chiesto in cui mi ha chiesto di recensire le sue penne ci siamo visti me le ha affidate quindi grazie mille per la fiducia dario sono molto onorato di questo di questo investimento che hai fatto parliamo della penna allora questa è una special edition uscita a marzo del 2015 ed è stata fatta è stata realizzata in onore del ministro degli esteri della repubblica di meimar gustav streisman che è nato nel 1879 morto nel 1929 è stato insignito del premio nobel per la pace nel 1926 per la sua opera di diplomazia intenta alla ricostruzione riconciliazione delle nazioni dopo la prima guerra mondiale era un soggetto famoso per indossare dei pantaloni a strisce e infatti la penna ne ricalca l'aspetto il fusto è realizzato in acetil cellulosa e resina preziosa per quanto riguarda le parti in nero la clip e gli anelli sono in palladio clip anelli in palladio e il pennino è rodiato in oro a 18 carati il sistema di caricamento è a pistone come tutte le pelican della serie m e le finiture sono appunto in colore argentato da cui il 5 del m805 è disponibile con pennini extra fine come in questo caso fine medium e broad vediamo come si comporta questa bellissima pelican pelican su su n con la diresi m805 steisman che sta scrivendo con un pennino extra fine in oro a 18 carati con intiostro pelican royal blu ok continuità di flusso questo punto inclino un po' come potete notare nonostante io stia procedendo anche velocemente la penna non perde un colpo quindi il flusso è continuo direzioni di scrittura dal basso verso l'alto gratta un pochino qui ci sarà o del lavoro da fare o come giustamente dicevi tu Dario bisognerà scriverci un po' semplicemente in maniera tale che la punta in iridio si modifichi sulla base della tua inclinazione infatti io con questa penna ho scritto il giusto per testarne la scrittura ma non più di tanto non ho abusato dello strumento perché il tuo strumento è come tale la personalizzazione deve rimanere tale le direzioni di scrittura rivelano una grattatina solo dal basso verso l'alto ma lieve in termini di variazione di tratto vediamo se riesco a fare con un po' di zoom a mostrare allora leggero un po' meno leggero quindi un po' di variazione di tratto riuscite a ricavarla ma con molta cautela è un pennino piuttosto rigido per cui non esagerate allora gli aspetti positivi di questa penna la livrea è eccezionale è il classico del classico Pelican se Pelican è famosa nel mondo per questa livrea a strisce nere e verti avere questa scala cromatica di grigi la rende ulteriormente classica denota quindi uno sforzo in questo caso di ampliare le Special Edition portandole anche alla fascia un po' più alta quindi quasi quella ammiraglia non è la M1000 ma è sulla M800 che ci siamo spostati per cui ottima cosa le dimensioni della penna sono importanti il caricamento a stantuffo è un classico della Pelican molto affidabile le rifiniture sono in palladio quindi comunque un metallo prezioso gli aspetti negativi il prezzo è poco meno di 500 euro quindi comunque parliamo di una fascia di prezzo alta ma comunque parliamo di rifinitura in palladio pennino in oro 18 carati rodeato Special Edition per cui non verrà fatta per sempre ma ha un periodo limitato di produzione anche se non è numerata e quindi se poi preferite altre livree questo è un altro paio di maniche io personalmente preferisco una livrea con le strisce verdi però anche questa io la trovo veramente accattivante cioè per chi ama i colori scuri il nero beh questo è un nero veramente elegante un nero e grigio veramente elegante va bene passiamo alla pagella allora flusso e vediamo di capire anche quanto è bagnato questo pennino è ben settato non è un idrante non è eccessivamente generoso però è buono magari visto che il pelican royal blue è un intiostro piuttosto viscoso forse è il caso di provare un hiroshizuku o un aurora per vedere un aurora black secondo me su questa penna è l'ideale perché ti dà ancora un flusso più scorrevole ancora e tra l'altro ti addolcisce un po' le grattatine che dà dal basso verso l'alto come movimento il pennino secondo il mio modesto parere poi la livrea beh allora la livrea deve piacere per chi ama i colori questa potrebbe sembrare una livrea che lascia un po' a desiderare per chi invece adora lo stile classico adora diciamo questi riflessi grigi e il non plusulta dello straceman quindi comunque per me si becca un nove e mezzo su dieci la clip la clip è un classico pelican a forma di becco del pelicano fa il suo lavoro non esercita eccessiva eccessiva pressione nel movimento di ritorno sul cappuccio danneggiandolo per cui è una buona clip io sinceramente le do il massimo perché sono clip che apprezzo moltissimo anche per la facilità con cui riuscite a infilarle nel taschino della giacca distribuzione del peso rispetto a modelli in cui il pistone telescopico essendo in ottone pesava molto in coda rispetto alla distribuzione insomma il fulcro della penna si spostava verso la coda verso il fondo diciamo per me è comunque ridotto come effetto per cui le do un 9 su 10 come impugnabilità come impugnabilità diciamo lo spazio non è tantissimo ma sufficiente per impugnarla comodamente poi oltretutto ha uno svaso sul fondo che vi impedisce di finire con le dita sul pennino o sull'alimentatore per cui questa facilitazione compensa uno spazio che è ridotto a minimi termini per dare maggiore capienza al fusto per me si becca un 9 e mezzo su 10 come impugnabilità soprattutto per lo svaso finale che è una cosa che apprezzo moltissimo perché vi impedisce di sporcarvi le dita come manutenzione ordinaria a b c d e f non so più ma ancora alfabeto manutenzione ordinaria quindi la possibilità di ripulire la vostra penna con facilità siccome come tutte le pelican della serie m il pennino si svita piuttosto facilmente voi potete accedere comunque alla sezione interna della penna con facilità per cui per me pur essendo una penna stantuffo la manutenzione ordinaria quindi se non dovete sostituire lo stantuffo 10 su 10 per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo per me si becca un beh per me è un 8 nel senso che 500 euro sono tantine però parliamo di rifinitura in palladio rodiatura di un pennino in oro a 18 carati per cui alta qualità di scrittura di pennino di alimentazione abbiamo visto un flusso che non perde mai un colpo 8 e anche poco cioè per me si va verso il 9 non è una penna che vale meno in termini di qualità è una pelican cioè questa vi dura una vita e oltre la potete cedere ai vostri figli e ai figli dei vostri figli insomma parliamo di uno strumento di scrittura della durata veramente ampia poi in termini di feedback del pennino e qui siamo sul 7 e mezzo nel senso che visto che si fa sentire però stiamo sfidando casa pelican in termini di feedback sul pennino più difficile cioè l'extra fine per chi come me è abituato ormai ai broad ai medium perché apprezzo di più lo shading di un inchiostro la sfumatura di un inchiostro l'extra fine gratta ovviamente un po' non gratta in tutte le direzioni come ho detto prima per cui un 7 e mezzo che può diventare anche 8 per me perché trattandosi di un'extra fine si giostra piuttosto dolcemente basta essere molto delicati nello scorre questa è una penna che scrive con il solo suo peso non ha bisogno di chissà quale aiuto come vedete io non sto premendo la sto lasciando nell'incavo della mia mano eppure la penna scrive quindi scrive alla perfezione per me è una media globale di un 9 9 e mezzo ok? e se li merita tutti quindi Dario ottimo strumento di scrittura grazie per avermelo prestato sono veramente onorato della tua fiducia e grazie a tutti per aver visto questo filmato se vi è piaciuto cliccate sul like lasciatemi pure i vostri commenti e al prossimo video stilograficamente parlando ciao a tutti grazie 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 grazie